Ha preso il via a Palermo con il convegno la Diabetologia Clinica e le Competenze Cardiovascolari e Respiratorie, il corso di alta formazione il cui responsabile scientifico è il professore Salvatore Corrao, ordinario di Medicina Interna alla Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo e direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e della UOC di Medicina Interna dell'Arnas Civico. Il diabete è una delle cronicità più prevalenti, cioè più presenti nell'ambito della nostra popolazione. La stima va ben oltre il 6% senza considerare che quando noi parliamo di diabete già da anni è in atto una condizione di turbe metaboliche che possono portare anche prima nella diagnosi di diabete all'infarto, allo scompenso cardiaco. Ahimè, spesso la diagnosi di diabete la si fa proprio nei reparti di cardiologia e terapia intensiva. Ecco, questo è un problema perché l'impatto delle ospedalizzazioni costa molto ed è la principale voce di spesa di qualunque cronicità e in particolare del diabete. Si parla ormai da anni di pandemia, le stime dell'International Federation of Diabetes sono impressionanti. Ogni volta che ci sono nuove stime i numeri delle precedenti saltano. Quindi fondamentalmente tra diabete e obesità, non dimentichiamolo, molto spesso collegata con il diabete nel litro di tipo 2, quello cosiddetto florido, sicuramente siamo di fronte ad una vera pandemia, siamo abituati a questo termine ormai nell'epoca post-Covid, ma questa è una pandemia cronica che costa moltissimo a qualunque stato. Parlare di respiratorio e anche cardiovascolare, per la verità ne parliamo da un poco di tempo, dal punto di vista cardiovascolare sembra un po' strano applicato al diabete. Non deve sembrare strano perché fondamentalmente il diabetologo, sia di provenienza endocrinologica che internistica, deve fare il clinico e quindi deve inquadrare il paziente per le principali comorbita che sono appunto non solo la parte metabolica e glicemologica in senso stretto, ma sono quelle cardiovascolari e respiratorie. Parliamo di tutti quegli aspetti che aumentano la consapevolezza del diabetologo per farlo diventare un clinico completo, ricordiamo sono i giovani principalmente coinvolti in questo corso e inoltre parliamo di nuove tecnologie, parliamo di ecoscopia, l'utilizzo degli ecografi anche al letto del malato o ancora di più in ambulatorio che permettono di registrare, di repertare alcuni segni in maniera molto precoce. Il corso ha questo scopo, ha lo scopo di formare questi giovani all'utilizzo anche di queste nuove tecnologie portatile, superportatile devo dire.